Fedez, la triste comunicazione ai fan dopo l'ultimo ricovero purtroppo i fan di Fedez hanno dovuto fare i conti con una dolorosa notizia La comunicazione è arrivata ieri sera, dopo che il rapper milanese è stato dimesso dal Policlinico di Milano, dove era stato ricoverato d'urgenza per un problema di salute È stato proprio il cantante in persona a fare l'annuncio ai follower, spiegando quali sono i prossimi step e le conseguenze Fedez, la triste comunicazione ai fan dopo l'ultimo ricovero La situazione di pericolo per il rapper è rientrata, ma i medici hanno dovuto prendere alcune decisioni riguardo ai prossimi giorni Fedez, come noto, aveva in programma una serie di concerti E i fan attendevano queste date con impazienza In serata, l'ex compagno di Chiara Ferragni, ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute e sulle scelte dei dottori che l'hanno in cura Fedez, la triste comunicazione ai fan Cos'è successo? Fedez è stato dimesso ieri dal Policlinico di Milano, dove era ricoverato per un'emorragia interna Il rapper ha tranquillizzato i fan sul suo stato Faccio alcune precisazioni sul mio stato di salute, poiché sto leggendo fantasiose ricostruzioni online basate non so su cosa Addirittura leggo che parlano di abuso di alcol e di droga e non è assolutamente così Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna Laddove mi hanno operato per rimuovermi il tumore, sono più fragile nell'avere ulcere, emorragie e sanguinamenti Fedez dimesso dall'ospedale, fa una comunicazione ai fan Fedez aveva già fatto capire che per lui era probabile uno stop Devono valutare se posso fare gli show DJ set previsti per questa estate Spero di sì, perché non vedo l'ora di suonare L'altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero molto entusiasta Speriamo almeno questo, dai, aveva scritto prima di uscire dall'ospedale Poi nella serata di ieri l'aggiornamento tra le Instagram Stories Ho bisogno di riposo e di recuperare? È con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per venerdì Ho bisogno di riposo e di recuperare un po' le forze, ha dichiarato Fedez sui social Purtroppo i DJ set previsti nei prossimi giorni saltano Bisognerà aspettare che il ragazzo si riprenda Nel frattempo potrà contare sull'affetto di quanti gli vogliono bene Accanto a lui ci sono i figli, Leone e Vittoria, i suoi genitori e i collaboratori più stretti Accanto a lui ci sono i figli, Leone e Vittoria, i suoi genitori e i suoi genitori e i suoi genitori